Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Ariete, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di agosto 2022. Wow, abbiamo la ruota della fortuna. Cambio in vista, amici dell'Ariete. La ruota della fortuna è una bellissima carta. Normalmente i cambi che porta sono veloci, ma sono comunque cambi positivi. Chissà, per qualcuno magari potrebbe arrivare un regalo, un dono, un'eredità anche. Si parla anche proprio di una vincita al gioco con la ruota della fortuna. Ma andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire nello specifico. Io comunque vi ricordo che le letture sono di carattere generale. Potrebbe essere che non risuoni tutto. Quindi prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se volete completare il messaggio potete ascoltare ascendente, segno lunare o venere. E nel caso vogliate contattarmi trovate la mia email sotto nella descrizione del video. Andiamo a vedere. Allora, si parte da un 5 di spade, un 4 di pentacoli e la carta degli amanti. Wow! Allora, il 5 di spade ci parla di qualche tipo di battibecco, litigio, screzio, anche magari con voi stessi. Potrebbe anche essere semplicemente una sorta di confusione interna. E questo potrebbe essere dovuto dal fatto che c'è questo 4 di denari. Quindi probabilmente qualcuno qui si sta attaccando a qualche cosa. Normalmente con una carta di pentacoli è un qualche cosa di fisico, un qualche cosa di materiale, di concreto. Potrebbero essere dei soldi, potrebbe essere una casa. La carta degli amanti ci parla di quello che è o un bisogno di scegliere, di effettuare una scelta. Probabilmente dovuto a questo conflitto che c'era qui con il 5 di spade. Ci potrebbe parlare di amor proprio, quindi di qualcuno che ha bisogno di fare un certo tipo di lavoro su se stesso, proprio a livello di amor proprio. O potrebbe anche parlare di quello che è la volontà, se vogliamo, di instaurare una relazione, una situazione in armonia fondamentalmente. Il 2 di bastoni, andiamo dopo a vederlo con i mini tarocchi. Il 2 di bastoni qui ci parla di quello che è un'indecisione. Molte persone qui probabilmente stanno pensando se effettuare questa scelta, se rimanere dove si è, oppure se andare avanti con la propria vita, con i propri progetti. Sì, il 2 di bastoni è comunque una carta che parla di indecisione. Abbiamo poi un fante di denari e per chi fosse single questa potrebbe essere, wow, potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita, ok? Potrebbe essere una persona giovane o giovanile anche. L'asso di coppe parla di un nuovo inizio. Normalmente l'asso di coppe parla di quello che è proprio un incontro tra innamorati, un innamoramento, una nascita a livello emotivo di qualche cosa. Vediamo qual è l'ultima carta, vediamo come concludiamo la stesa. Perché comunque... Oh, quante carte sono troppe! Una sola per piacere, grazie. La principessa di denari, enormemente parla di una persona che ha occhi solo per voi, ve lo dico. E poi abbiamo un fante di spade. Ecco, qui si tratta di tenere un pochettino gli occhi aperti, probabilmente in riferimento a tutto quello che succede intorno a voi. Il fante di spade ci parla di qualcuno che tiene gli occhi aperti, che studia, che controlla un po' anche la situazione, ok? Fate anche attenzione però, se questa è una persona nuova con la quale nasce qualche cosa, a non farvi prendere un po' troppo da quello che sono le idee che voi vi fate inerente a questa persona, piuttosto che inerente alla situazione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi nello specifico. Io intanto vi ricordo che tutti i lunedì sto pubblicando il corso gratuito di Tarocchi. È un corso base, quindi non è completo. Però è stato studiato così, proprio per dare la possibilità a tutti di usarlo per integrare proprio le letture collettive, ok? Quindi se in qualche tipo di lettura magari non vi vedete al 100% oppure c'è un qualche parte della lettura che volete approfondire, avete questo strumento che è il corso base in modo da dare voi la vostra interpretazione alle letture. Lo trovate comunque nella playlist del canale, ok? Bene, andiamo a vedere il 5 di spade. Abbiamo la forza e il sole al contrario. È come se qui qualcuno non avesse, o stesse battagliando, stesse lottando un po' con se stesso per andare verso l'espansione, ok? Qui abbiamo la carta del sole al contrario, che normalmente parla di espansione, parla di crescita, parla di abbondanza, parla anche di bambino interiore. E quindi per qualcuno si tratta qui di guardare in faccia quelle che sono le proprie zone d'ombra fondamentalmente per andare a curarle. Vi ricordo che anche la carta degli innamorati, uno dei significati che ha è proprio quello dell'amor proprio. Andiamo a vedere il 4 di denari. L'amor proprio degli innamorati inteso come proprio la cura del bambino interiore. Ecco appunto, innamorati e 5 di bastoni. Sento che è come se ci fosse una sorta di attaccamento a… può essere un'ideologia, è qui. E per qualcuno potrebbe essere proprio una relazione, una persona comunque. C'è un attaccamento a un qualche tipo di quotidianità che si vive con questa persona. Nonostante comunque il 4 di pentacoli sia una carta molto statica come energia, comunque una carta di… questo lo vedo come un equilibrio forzato, questo è un equilibrio in armonia. sa di fatto che una sorta di situazione… è in equilibrio, è in equilibrio, ma non è un equilibrio completamente sano, ok? Perché comunque abbiamo un 5 di bastoni, quindi ci sono di nuovo 5 di spade, 5 di bastoni, potrebbero esserci degli attriti per qualcuno. Andiamo a vedere, ok, gli innamorati abbiamo un altro 5 ragazzi, un 5 di coppa e il giudizio. Io credo che qui si tratti di fare un salto in avanti, perché il 5 di coppa mi parla sempre di quello che è un pentimento, un risentimento, è la carta del giudizio, è la carta della presa di coscienza, della presa di consapevolezza. Credo che qui qualcuno abbia bisogno di capire certe dinamiche che sono successe. Sia che siate single, sia che siate in una relazione, c'è bisogno con questo giudizio di prendere consapevolezza. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un 8 di bastoni al contrario e un fante di bastoni al contrario. Probabilmente in questa relazione o in questa situazione non si è detto tutto, perché questo 8 di bastoni è girato al contrario, quindi manca della comunicazione. E io credo che comunque ci sia una sorta di egoismo in quello che è questa situazione o la relazione. Uno dei due credo che sia più egoista dell'altro. Non la sento tanto come una lettura familiare, perché abbiamo comunque due volte la carta degli innamorati, però per qualcuno potrebbe risuonare come una questione tra madre e figlio o madre e figlia, insomma. Andiamo a vedere con la principessa di denari. Fante di coppe e nuove di spade. Ragazzi, questa principessa di denari, che sia appunto un figlio, una figlia o la persona di interesse, arriverà a fare una proposta, per qualcuno si tratta di venire a porgere delle scuse, probabilmente per questi conflitti che ci sono stati, ok? Però c'è sempre un 9 di spade. Il 9 di spade, sento che farete un po' fatica, ok? Ad accettare a cuore aperto queste scuse. Ci sono ancora delle cose che vi preoccupano, delle cose di cui non siete sicuri, ne rende questa persona. Andiamo a vedere l'assù di coppe. Abbiamo un 6 di bastoni, wow! Un 9 di pentacoli, un cavaliere di coppe e un 5 di spade, ragazzi. Carte bellissime, carte bellissime. Arriva un nuovo inizio, arriva quello che è un riconoscimento, la vittoria, un appagamento, l'amor proprio. Questa è la carta dell'amor proprio, ok? E abbiamo anche un cavaliere di coppe che arriva per fare una proposta, un'offerta. Quindi qui secondo me arriverà qualcuno che vi proporrà qualche cosa, può essere che vi propongano un nuovo inizio insieme. Questo 9 di spade lo sento presente anche a causa di questo 5 di spade che avevamo già qui. Probabilmente questa proposta vi crea dei conflitti interni, vi creerà qualche dubbio sull'onestà, sento, dell'altra persona. Andiamo a vedere il principe di spade perché ovviamente avendo questi dubbi sull'onestà è anche abbastanza comprensibile che iniziate, come dire, a tenere un pochettino più gli occhi aperti. Andiamo a vedere il fante di spade. 6 di coppe la luna, ragazzi, 6 di coppe. Abbiamo due volte la carta degli amanti. Per qualcuno si può trattare di un'anima gemella e sono due carte che parlano di sogno, ok? Io credo che inizierete a vedere la concretizzazione di quello che è il vostro sogno. Wow, ma che bello! Allora diciamo che agosto sarà un periodo che cambierà in meglio, in meglio. Ci sarà una botta di fortuna, diciamo così, dal punto di vista proprio romantico dell'amore, ok? Molto bene, sono contenta per voi. Andiamo a vedere qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile e qualche carta anche per le persone che hanno una relazione di tipo diverso, quindi in separazione, magari a distanza oppure clandestino, ok? Io intanto volevo ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le donazioni, quindi grazie veramente a tutti. Bene. Per i single, andiamo a vedere. Ok. Abbiamo un 3 di pentacoli, un altro 9 di pentacoli, ce l'avevamo già qui. la carta della morte e un 4 di bastoni. Ragazzi, qui inizia qualche tipo di progetto. Sento che molte persone lavoreranno su se stesse, o stanno iniziando a lavorare su se stesse, proprio su quello che è l'amor proprio, ok? E questo vi darà la possibilità di rinascere, di avere un nuovo inizio, di riproporvi nuovi, di ritrovare quello che è una stabilità. Abbiamo anche un bellissimo 4 di bastoni, e qui lo vediamo, qui inizia una relazione. Oh, sì! Che bello! Scrivetemi poi nei commenti. Andiamo a vedere le persone che sono in una relazione stabile. Ok, wow! Ma che carte belle che avete, ariete! Allora abbiamo la carta del karma, la regina di spade, il 2 di coppe e il 7 di spade. Eccolo, appena detto! La carta del karma, abbiamo qui il giudizio, due volte. Qui qualcuno aprirà gli occhi. La regina di spade è una persona che vede chiaro fondamentalmente, è una persona che anche controlla certe volte, ok? Qui fate attenzione perché ci potrebbero essere delle proiezioni per quello che riguarda la vostra unione, il vostro accordo. E' un po' come se dovesse scendere a compromessi in questo periodo. Però attenzione a dire le cose come stanno, ok? Perché comunque c'è un set di spade, parla di proiezioni, parla di comportamenti poco chiari, di bugie, che possono anche essere bugie che voi dite a voi stessi, eh? Non necessariamente sono gli altri che dicono le bugie a voi. Però ecco, la carta del karma e la regina di spade insieme vi aiutano, come dire, a aprire un pochettino gli occhi, secondo me. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione diversa. Wow! Asso di bastoni. Due di spade e qui rivedo il bivio del due di bastoni. Poi abbiamo un sei di bastoni che c'era già qui e la carta del sole che era in inizio lettura capovolta. Io credo che qui ci sarà un incontro e lo vediamo con questi due assi, ok? E da lì nascerà un due di spade. Quindi qualche dubbio nascerà. Vado o sto? Mi fido o non mi fido? Cosa facciamo? Però, ragazzi, avete il sei di bastoni che è la carta della vittoria, del successo, del riconoscimento. Poi abbiamo la carta del sole che è la carta che esprime l'amore genuino, l'amore puro, la crescita. Quindi anche qui sento che comunque qualsiasi sia la scelta che voi prendiate inerente a questa persona, a questa relazione o a questa situazione, sarà la scelta giusta per voi, ok? Perché comunque avete un sei di bastoni e la carta del sole alla fine. Molto bene. È un bellissimo periodo per tutti e tre i gruppi, devo dire. Andiamo a vedere un ultimo messaggio con le fatine per chiudere la lettura. Vediamo che consiglio vi può dare questo oracolo. Wow! Essenza! Qui è un po' come se vi dicessero brillate da dentro, esprimete la vostra essenza, lavorate sull'amor proprio, avete gli amanti due volte, i nove di pentacoli qui. Quindi lavorate sulla vostra essenza, su quello che siete voi, senza tutte le strutture esterne fondamentalmente. Cari amici della rete, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!